Sono varie sezioni, il dizionario dei rifiuti che spiega dove il rifiuto va portato e se può essere portato al centro raccolto o a domicilio, la raccolta dei rifiuti e quindi le indicazioni sulla raccolta stradale, porta a porta, rifiuti speciali e ritiro a domicilio, dove si può direttamente dall'app prenotare il ritiro a domicilio. Si chiama Arezzo Clean, l'app dedicata al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento. I cittadini potranno attraverso questo strumento segnalare i disservizi ma anche e soprattutto l'abbandono di rifiuti, un fenomeno sempre in crescita nel territorio del comune di Arezzo. Da praticamente appartamenti completamente svuotati e abbandonati nei marciapiedi, amianto, rifiuti pericolosi, acidi e in questo modo sapendo che tutti noi possiamo in tempo reale mandare la foto geolocalizzando il punto preciso, a questo punto ci si responsabilizzano tutti. Poter avere un controllo più puntuale, più diffuso su tutto il nostro territorio e facilitare anche i flussi delle informazioni sulle segnalazioni, perché in questo modo vengano tutte centralizzate in un unico punto e che gestirà poi ovviamente tutte le segnalazioni, ne valuterà l'entità e l'effettiva portata per poi attivare il gestore per intervenire e per ripristinare le condizioni di degrado che si sono manifestate. L'app sarà scaricabile gratuitamente sui principali sistemi operativi Android e iOS dal prossimo 28 novembre. Tutti i vari tipologi di segnalazioni che si possono mettere, sia sulla raccolta porta a porta stradale, lo svuotamento dei gestini se non sono stati svuotati, lo spazzamento delle strade se non sono state spazzate, i rifiuti abbandonati e i contenitori gotti. Quanto si rischia se si viene beccati nell'abbandono di un rifiuto? La sanzione minima è 150 euro, fino anche per le attività anche su sanzioni penali, quindi procedimenti tipo penale.